l'Olimpica è arrivando quinta ad Anversa, ad Antaglia, gli europei, si è laureata vice campionessa d'Europa. Ora siamo con Esli Rivera, di nuovo con gli Stati Uniti alla trave, con Alice D'Amato, con Terza Angela Andreoli, quindi un podio di tutto italiano. Sì, un doppio giro, un gol stotto, molto bella la parte a terra, a contatto con l'apprezzo. Sì, intanto ha iniziato Tiana Sumana Sekera alla trave, con un piccolo sbilanciamento, invece questa con un piccolo sbilanciamento, non prenderà il collegamento dei tre salti, parte a terra, un buon ritmo, Anjambe cambio con mezzo giro e Flick Corbutt, brava. Anjambe cambio, un sbilanciamentino da niente praticamente, è Anjambe cambio, ribaltata senza mani e Anjambe sul posto e divaricato, bene. Intanto il boato era per il volteggio della Andrade a volteggio. Allora, l'esercizio sta andando liscio, nel senso che è pulito, preciso, però io spero siete d'accordo con me che è un esercizio non entusiasmante, è un po' statico, cioè elemento, movimentino, elemento, coreografia. Rispetto a quello che abbiamo visto della Black, smizzato, unito, doppio...